Missione compiuta per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che vince con un netto 0-3 in casa del volontario e conquista la quarta semifinale europea della sua storia. Nel penultimo atto di Challenge Cup le azzurre sfideranno le tedesche di Wiesbaden, vittoriose nella doppia sfida con le greche del Pauk Salonico, entrambe le volte per 3-0. Gara d'andata della semifinale a Novara tra il 30 gennaio e il primo febbraio, ritorno in Germania. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.